Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come ho detto ragazzi oggi siamo qui in un nuovissimo video Oggi ragazzi siamo in un nuovo basket creato da Steve127 E ragazzi ho un basket che c'è l'Xbox X1 Eh sì, penso di sì Nooo raga subito trollati Sapete che non so se è difficile o no, sinceramente non lo so Bella Alex, grandissimo Alex come stai? Spero tutto bene ed ecco le Zorrusso raga, molto bella, molto bella Zorrusso Così, allora, io adesso devo prendere un attimo le misure perché non so effettivamente a che velocità si debba andare Ok così, così è troppo poco, ok C'è qualcuno che ce l'ha già fatta degli avversari Infatti sono pochi punti perché probabilmente è complicato da fare Però io non vorrei mollare così all'inizio Comunque adesso ringrazio anche tutti quelli che sono entrati Perché secondo me da qua va più che bene Ok, penso di... no Poi invece rimbalzino, niente rimbalzino non funziona sempre E raga è veramente un po'... è veramente tosta la situazione qua eh Veramente veramente tosta Allora io dovrei cambiare anche l'auto perché sinceramente è un po' distrutta ma non mi è concesso finché nessuno ancora ha consegnato Quindi andiamo con la Zorrusso Ok, veloce 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 Zorrusso È lungo Ah raga sempre al limite, sempre al limite Attenzione perché uno dei loro ha consegnato Qua diventa tosta la situation eh Diventa bella tosta Oh chi è che mi vuole trollare? Ok Comunque ringrazio Zayudi, Porcomoz 1994 Alex Eurafi, Pynfs Darkino Ossia Dark, Vez, Trevor Elox e Faze Diego Ok, 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 ok Raga stiamo attenti Stiamo attenti Ok, 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 ok Ole, ci siamo Ok, occhio, 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 occhio raga eh Occhio Allora, qua cosa c'è da fare? Un doppio Ah, è un doppio basket Aspettate, scusate eh Ma serve a qualcosa o no? Ah sì, bisogna per forza andare sotto raga Ecco cosa bisogna fare Ma guardate E quello come ha fatto bloccarsi lì? No No, 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 no Occhio, occhio Eh raga, qua è Un bel troll gigante Bella, bella Raffi Grandissimo Oh, piano, 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 piano Oh Eh raga, c'è quell'auto lì eh Quell'auto lì in mezzo Ecco perché non consegna nessuno Perché la cosa è veramente, veramente complicata Allora Siamo qua in due No No Ok, ok Eh raga Sapete che non è facile Attenzione eh Attenzione perché bisogna andare alla Velocità Giusta E no E non è questa Ok No, adesso ci incastriamo Ok No, no, no Via, 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 via Via Eh no È finita raga È finita Oh 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 Cosa sta succedendo? Ok Ancora una spinta raga No, niente da fare Oh raga Mannaggia Che prende tutto a fuoco eh Ok Qua Niente È rotta anche questa raga È veramente difficile consegnare Aspettate eh Vediamo se Qua C'è qualcuno Ok Oh guardalo Grazie mille Ilox Gentilissimo Ok Aspettate eh Ci proviamo Ci possiamo riprovare Dato che ci ha dato l'opportunità Ok Anche d'archino qua Ok 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 Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Consegna Dove si consegna? Dai veloci 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 Che non so quanto abbiamo di tempo Ok È la consegna della volpe Cioè Mettiamo la firma subito Su questa cattura Che è molto complicato Il secondo Il secondo raga È veramente Veramente complicato Comunque molto bello Spettacolare Bello questo doppio basket Un po' complicato Devo dire Veramente Ma adesso Ci suicidiamo E cerchiamo Di riconsegnare Veloce volpe Veloce Sono stato un po' dubbioso Su quella parte Perché raga Veramente Non è facilissimo Poi ce l'ho fatta Fortunatamente Ce l'ho fatta Adesso respawniamo Ok ragazzi Ci risiamo Con la nostra BMX E ora Cosa vogliono Cosa vogliono Da me No 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 Raga Lasciatemelo Lasciatemi prendere Magari l'auto Lasciatemi prendere L'auto E niente raga Raga Per favore E niente raga Non mi lasciano Non mi lasciano Prendere l'auto Oh grazie Faze Diego Molto gentile Io ho ucciso anche uno Vai vieni Ti aspetto Ok Vai veloce veloce Andiamo 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 Cerchiamo di fare Canestrino Subito Gestaccio dal finestrino Ok Piano piano No veloce veloce No Non ci siamo arrivati Come due loro Come due No raga Stiamo perdendo No raga È bella grave La situazione È bella grave Ma secondo me È il basket interno Che trolla un botto Allora aspettate Che adesso ci riproviamo Da qua Cerchiamo di farcela Perché veramente Non è Assolutamente Non è Semplice Ok No 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 Vedete che non è Non è molto semplice Non è per niente semplice Però forse qualcuno Sta consegnando Della mia squadra Vedo che all'interno Mi sa ci sono No Darkino L'ha distrutta invece Mannaggia È peccato 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 Oh veloce 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 Che se no Ci si distrugge anche a noi L'azzorrusso Allora raga Non riesco a trovare una via di mezzo Perché appunto Il basket è Sopra E quindi non si riesce bene A prendere Le misure Però io credo che qua Possa andare più che bene Allora Adesso Vediamo se La sorte Ci dà Ragione Vai Va bene Va bene Butto dentro il mio compagno E comunque Non che sia una brutta cosa Ok Vai 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 No no Come ha consegnato No raga Ha consegnato 3 a 1 Round perdente Prossimo round Per rifarci Secondo round Ed ora ragazzi Dobbiamo cercare di consegnare La zorrusso E cercare di vincere Soprattutto questo Round Perché altrimenti Abbiamo perso Allora Io andrei Non troppo veloce Con un po' di cautela Ok No no raga Vedete che saltiamo Sempre un po' di più Ok Uno ce l'ha fatta Perfetto No raga Andiamo Andiamo via Andiamo via Ok Uno di loro è stato trollato Molto bene No 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 Lo becco Lo becco Lo becco Lo becco Non lo becco Perfetto Allora Dobbiamo prendere una via di mezzo Che secondo me Può essere Esattamente qua Forse Forse poco Che dite Mi sa Mi sa che è leggermente Leggermente poco Eh si Oh E raga Mi sa che l'altra squadra È riuscita a centrare Eh Bello difficile Bello difficile Devo Cercare di prendere le misure Ma la cosa non è facile Anche perché non ho punti di riferimento Quindi la cosa mi risulta Un po' complicata Ok Raffi ha concluso Cioè Raffi ha consegnato È peccato perché È della squadra avversaria Allora I miei compagni mi trollano E non consegnano però È quello il problema Ok Ok Vai vai Andiamo 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 Salta Ok 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 Ci siamo Sì ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ole Adesso Cerchiamo di Girarci Ok Abbiamo qua Trevor Ok Ok Bello trollato anche lui Perché qua Raga Complicata la situazione Io ce la faccio Io ce la faccio Vai Trevor Dai che ce la fai anche te adesso Veloci 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 Andiamo 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 Ok Consegniamo E la volpe consegna 100 RP per noi Ok Andiamo 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 Veloci 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 Ok Mi sono suicidato Bene 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 Adesso riproviamoci Adesso riproviamoci No Distrutta La distrutta Mi sa raga Purtroppo è così Perché lì Se si incastra Si blocca E vedete Ha distrutto Zorrusso Purtroppo è così Non c'è niente da fare Allora Vediamo adesso Di consegnare Un'altra Zorrusso Ok Piano 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 Ok Va bene Raga Va bene Volete che la volpe diventi Bella pro E adesso Ve la beccate Ve la beccate Lungo 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 No Si Lungo Peccato raga Peccato 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 Era buono Era buono Come salto Ma leggermente lungo Ancora Allora Adesso ci riproviamo Allora C'è qualcuno all'interno Mi sa un nostro compagno Mannaggia a te Che prima mi hai trollato Ecco Adesso mi vendico Anch'io Ok Vai 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 Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Nuovamente Ole Ole E ci siamo Ci siamo Ci siamo Grandissimo D'Archino Che ha consegnato GG per D'Archino Che consegna E adesso qua Cerchiamo di Farcela Aspettate Aspettate No 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 Raffi non può consegnare Raffi non può consegnare Raffi non può consegnare Raffi non può Consegnare Mannaggia Alex È colpa tua Ok Via 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 Veloci 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 No Ha consegnato anche un altro No 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 Uno della loro Sì uno della loro Ok Via 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 Ok Aspettate No forse no O forse sì No No Ragazzi non è facile Non è facile Speriamo che il mio compagno Riesca a farcela Ma qua È bella tosta La situazione È bella tosta Aspettate che dobbiamo fare il terzo Dobbiamo fare il terzo In tutte le maniere Possibili Ma andare un po' più veloci Di così però Andare un po' più veloci Dai Vets Trevor Confido in te Dai 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 Forza Dobbiamo farcela Non Mollare Assolutamente Ok No 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 Ok però ci siamo salvati Bene Ok Ok Mannaggia a te Ok via Vai Ok Dai 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 che ci sono Sì 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 Raga la volpe c'è La volpe c'è Ok Vai consegna E ci siamo 3 o 2 3 o 2 Raga Vediamo se arriva qualcuno Raga Non possiamo rischiare Non possiamo rischiare Veloci 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 Fate qualcosa Compagni Fate qualcosa Compagni vi voglio cattivi Vi voglio più cattivi Vediamo se riescono A centrare Tipo Trevor Vediamo se riesce a centrare Qua non c'è nessun'auto buona No Non c'è nessun'auto buona qua Allora dai Venite giù Venite giù che vi vorrei trollare Alla grande Allora ok Qua Vediamo se arriva no Oh Aspettate Ok Grandissimo Ilox Grandissimo Grande Grande Vai 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 Consegna Consegna che siamo a 4 Perfetto E 4 a 2 Ci manca un punto Raga mi suicido Andiamo a prendere la BMX Vediamo se ce la facciamo A consegnare l'ultimo Punto Sperando di farcela E poi dovremmo avere Il round finale Il round finale Per il Per la vittoria Di questo Bell LTE Di questa bella cattura Ok Ok Diego 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 Con calma Diego Ok Ok Andiamo 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 Diego andiamo andiamo Cerchiamo di farcela eh Diego Occhio 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 4 a 3 4 a 3 no eh 4 a 3 No raga non ci credo No raga non ci credo No 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 Via 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 Ok Allora andiamo andiamo Veloci 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 Con la nostra Zorrusso Stavolta bianca Ok Ci siamo Si 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 Ci siamo Alla grande Ok Scusami Devo leggermente passare Ok 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 Raga Oh no No Per poco Ok E' finito E' finito Round vincitore Dimmi di si Round vincitore Prossimo round Terzo ed ultimo round Ragazzi Di questo basket E devo dire che è veramente complicato Allora Scusatemi eh Singhiozzo Saltellante Ogni tanto Parte Ok Io andrei con cautela Voglio aspettare che gli altri vadano Ok Vai vai Andate 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 Senza problemi Ok voi Andate Ole No E niente Mi ha ributtato giù Mi ha ributtato giù Ok Comunque non possiamo perdere Dobbiamo assolutamente fare canestro In tutti i metodi possibili Salve YouTube Salve Rafi Salve Rafi Allora aspettate che adesso Io penso Da qua Sia cosa buona e giusta Dovrebbe arrivarci No Vorrei dire una cavolata Ma Penso No 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 Non schiantartili Non schiantartili i volpe però Leggermente più veloce Ma proprio leggermente Difficile raga eh E' difficile calcolare la perfezione Vediamo Vediamo Dove si può finire Ok 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 vai vai Andiamo da qua Da qua da qua da qua da qua Veloci 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 Ok Per fortuna che non abbiamo incontrato quello Che magari Ci voleva arare Darchino No 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 Vai 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 dentro qua eh Volpe non fare scherzi Mi raccomando Ok 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 perfetto Ci siamo Grandissimo darchino qua Oh 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 Occhio Anche raffio consegnato eh No No Non volevo distruggerla io E adesso come facciamo Raga io ho bloccato leggermente la situazione E Io non vorrei schiacciare triangolo sinceramente Dai venite qua Vieni qua Ok No ste guardalo Alex Adesso ve' aro Ok 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 Perfetto Ok vai vai No 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 Adesso fa canestro Occhio 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 Dai esci 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 fuori Esci fuori No ce l'ha fatta Uh Guardalo Alex No raga non dobbiamo perdere tempo E non so se ce l'ha fatta Spero sinceramente No ce l'ha fatta invece E invece Eh allora Suicidiamoci Suicidiamoci raga Suicidiamoci in tutti i modi possibili E immaginabili Perché io non voglio perdere Dai dai veloce veloce Non si può perdere Che No no niente selfie Oh oh Fermi 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 Oh aspettate Fatemi venire qua Oh no 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 Non fatelo No Non fatelo consegnare Non fatelo consegnare Non fatelo consegnare Eh raga mi uccide Niente raga mi sa che Non riusciamo a vincerlo Mi sa E mi sa che non riusciamo a vincerlo Purtroppo Il secondo basket Veramente è bello troll È bello troll Io spero che i miei compagni Dove guardo Ok Spero che i miei compagni Riescano a farcela Ma Qua è bella È bella tosta Eh Bella tosta la situazione Ok Ora come mi vogliono prendere No dai No 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 Così però Mi diventa impossibile anche per me Ok grazie mille Chi è Grazie mille Dark Ok Dark Però ora è il momento di andare È il momento di andare Perché altrimenti Non ce la facciamo Qua Ok Vai 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 Uh No 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 è entrato Eh Dark Dark no Madre Eh qua è la fine Qua è la fine Vediamo se Diego riesce No raga no Io non voglio perdere Io non ci sto sinceramente a perdere Io voglio la vittoria Io voglio la vittoria Sono abbastanza Testardo Ok Uno dei loro Ha distrutto La Zorrusso Piano piano Qua Però anche un nostro compagno Ha distrutto Aia Aia mi sa che Ok Anche Porkmods 1994 L'ha distrutta Vediamo adesso se qualcuno Dei nostri No No ma come Ha distrutto E poi ha detto consegnato No 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 Raga è la fine No no Io non volevo perdere Io non volevo perdere La partita Perdente Ma raga era veramente difficile L'abbiamo consegnato Mi sa tre volte Ma era complicatissimo Dunque ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi Se non siete iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti.